Michele ci dice il programma di domani della lingua nostra ci spiega ci spiega tutto che la senza dice una parola in italiano vai allora il giorno 26 settembre e vabbè già sta a parlare in italiano ha da parlare in dialetto il 26 settembre noi a Castellino facciamo questa devozione per San Michele sta a parlare in italiano, ha da parlare proprio stritto, stritto no, no, ascoltami ho pure rimanato a zero a dove si avvicina, qua c'è l'italiano a dove si avvicina e ci capite, ma da parlare proprio stritto a voi, arminio è la zero togli, togli togli